Quinta domenica di Quaresima anno, video al volo, il video completo lo trovate sempre qui da qualche parte. Alcune considerazioni su questo Vangelo Giovanni XII, 20-33. La prima, molto importante, che a volte forse sottovalutiamo o non riusciamo a sottolineare bene. Dice, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c'erano anche alcuni greci, uguale pagani, oppure che erano lontani da Dio. A chi si avvicinano questi? A Filippo. E poi Filippo va da Andrea. Filippo e Andrea sono gli unici due apostoli che nel loro nome hanno una provenienza greca, hanno un'entimologia greca. Tra l'altro Filippo dice che è di Bezzaida, che era oltre la Galilea, una zona proprio di confine con i pagani. Cosa succede? Questi greci trovano assonanza in questo nome e tra sé si chiedono e si dicono forse gli unici che possono capire il nostro linguaggio, il nostro stato, la nostra richiesta, sono proprio loro. Perché nel loro nome noi ci riconosciamo. Nello stesso tempo riescono a realizzare che solo questi due potrebbero avere quella apertura mentale, pastorale e spirituale per accogliere loro che sono diversi. Allora io riflettevo su questo. Quante volte noi ci siamo sentiti presi da Gesù e portati in situazione? Quante persone hanno chiesto giusto a noi perché hanno visto nella etimologia della nostra storia, della nostra vita, della nostra situazione, qualcuno che li potesse capire e ascoltare? E' come a dire che a volte diciamo ma quello mi può capire, no? Secondo me se vado da quello, tra virgolette, mi può comprendere realmente. Allora vedete, spesso la nostra esperienza, il linguaggio della sofferenza che abbiamo imparato, le terminologie della morte che abbiamo vissuto, la grammatica dei fallimenti che abbiamo dovuto imparare a memoria, diventano strumento di salvezza nelle mani di Dio per i nostri fratelli. Oh, quello si chiama Filippo. Cioè non è andato da Giacomo, è andato da Filippo. Non è andato da Tommaso, è andato da Filippo. Cioè come a dire che proprio Filippo, proprio Andrea, sono coloro che hanno un'assonanza spirituale dentro di me. E anche noi a volte ci sentiamo capiti, compresi e portati a Dio perché Dio si serve della nostra storia per conquistare la storia dell'altro. Bellissimo. Ecco perché ciascuno di noi nella sua diversità è capace di accogliere la diversità. Tra l'altro gli domandarono, Signore, vogliamo vedere Gesù? Per la prima volta ci troviamo ad una domanda forte, di fronte a una domanda veramente pregnante. Cioè questi non chiedono un miracolo, guariscici, né tantomeno come i buon erghessi gli chiedono una raccomandazione. Cosa che a volte facciamo sempre noi nella nostra preghiera. Questi gli chiedono di voler vedere. Il verbo è orao, che non è un pura, semplice curiosità. Orao è voler entrare nel mistero della conoscenza di Dio. Questi non vogliono niente, vogliono vedere Gesù. Allora il Salmo 26, versetti 8-9, ce lo ricordiamo. Di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto, il tuo volto. Signore, io cerco non nascondermi il tuo volto. Sarebbe bello. Io non voglio niente da te, non voglio miracoli, voglio semplicemente vederti. Io penso che tra due innamorati, come nella vita spirituale, la richiesta non è di un tornaconto o di qualcosa che si materializzi, ma di un incontro. Quante volte due persone che si amano, l'una ha detto all'altra, guarda, mi basterebbe vederti. Quante volte una mamma ha detto il figlio, guarda, fatti vedere, fatti vedere. Questa è la richiesta più bella che noi chiediamo e facciamo. Guarda, mamma, non ti chiedo niente, non è che ti sto chiedendo soldi, niente, almeno fatti vedere. Vogliamo vedere il tuo volto. Poi Filippo andò a dirlo ad Andrea e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Cioè, come comunità intera, insieme, vanno a chiedere a Gesù. E Gesù, finalmente, nelle nozze di Cana, non era ancora giunta la sua ora, dice, guarda, è venuta l'ora che il figlio dell'uomo sia glorificato. Qual è questa gloria? In verità, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce ferro, porta molto frutto. Allora, la gloria sta proprio in questo. Questa empatia che si è sviluppata nella comunicazione dice subito che il concetto di gloria, non è un concetto di gloria ellenistica, la gloria degli eroi, la gloria degli dei, la gloria delle battaglie vinte. No, è una gloria spezzata, donata. Chi è questo chicco? Sta parlando di sé. È lui che è questo chicco di grano che se non cade nel terreno e non muore, non produce frutto. Allora, Gesù sta dicendo, guardate che la vera gloria è proprio in questo spezzarsi, in questo donarsi, in questo schiudersi ad una relazione. Guardate che se Filippo e Andrea fossero stati proprio con i paraocchi, guardate se voi non siete dei nostri, io non vi posso dare quello che voi cercate, no? Invece loro aprono i loro occhi, accolgono come il chicco di grano che non ha paura di morire. E allora questo significa che in ciascuno di noi c'è un piccolo chicco di grano. Anzi, ciascuno di noi è un piccolo chicco di grano. Significa che inuce, dentro di sé, nel seme, ha la potenzialità incredibile di comunicare la vita. Potenzialità, potenzialità misteriose che probabilmente ancora noi non conosciamo e che non conosceremo mai per il momento, no? Ma che si svelano piano piano ed è giunta l'ora, che non è quella di Cana, per poter cominciare a svelare quello che noi siamo. Che è bello. Se ne pensassimo tutti, che tutti quanti, anche i più peccatori, sono un chicco di grano che pian piano manifestano le loro potenzialità, che contengono un'energia vitale e che attende di manifestarsi piano piano, non giudicheremo nessuno. Se invece giudichiamo già come pianta cresciuta tanto ormai, non si può fare niente perché un albero non si può correggere, li abbiamo già schiacciati nella loro inutilità. Ognuno di noi ha un'energia che può liberare e solo così può portare frutto attenzione, il contrario non è l'improduttività, ma rimanere isolati, irrelati. Chi non si spacca per donarsi rimane isolato. Vuol dire che la sua vita non ha nulla da dare agli altri. Difatti, versetto 25, chi ama la propria vita la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, più che autù, la conserva per la vita eterna. Amare in realtà non significa amare e odiare, nel senso disprezzare la nostra vita. Tra l'altro la psuche è proprio la vita interiore, non solo la vita come esseri umani, in tutto, interiore ed esteriore, la vita biologica è la vita interiore. Questa vita, se è trattenuta, quindi nel senso semitico di amare, se è trattenuta, la viene persa, perché se il chicco di grano tu non lo butti a terra, non lo butti nel terreno, lui non produce frutto. Allora, il problema è non aver mai paura di trattenere quella vita che diventa per l'altro un dono di sé, che è poi la paura di donare. La paura che nel dono io possa perdere qualcosa. Faccio un esempio molto materiale, diciamo, ma quanto devo dare a quella persona? Tanto, tanto? O forse trattengo qualcosa per me? Ecco, calcolare di riservare qualcosa significa custodirla nel sepolcro. E come la parabola dei talenti, non sarà mai produttiva, sarà sempre non portatrice di dono. E quindi ci isoleremo. Stranamente, spiritualmente, umanamente, meno dai e più sei isolato. Meno muori per l'altro e più sei isolato. Difatti, la paura di perdere la vita è sempre come attaccamento alla vita, l'ostacolo al dono. Se ci fate caso, è sempre così. Una mamma, se pensasse, mamma mia, che paura ho di mettere al mondo un figlio, e non lo farebbe mai. Invece, vincere la paura significa donarsi e donare sempre. Se uno vuol venire dietro a me, mi segua però, amici miei, questo servizio significa sequela, significa servire, significa distendere la propria vita al servizio degli altri. Tra l'altro, l'anima mia è turbata, sembra un anticipo quasi all'orto degli ulili. Tarasso, completamente. Cosa potrò dire? Padre, salvami. No, ma per questo sono giunto a quest'ora. Per dare completamente la vita per te. Ecco perché al 28, Padre, glorifica il tuo nome, doxazon su to onoma. Che bellissimo, significa, questa è la vera doxa, manifestaci la tua persona. Dicci chi sei, facci capire chi sei. Questa è la vera preghiera della fede, del vero cercatore di Dio, che può essere anche un ateo, ma che cerca la vera persona di Dio. Allora, in questo dono, venne una voce del cielo, l'ho glorificato, l'ho glorificato ancora, in questa doxa, c'è veramente la meraviglia di chi cerca lo splendore della persona e del volto di Dio. E poi, ancora, la conclusione del Vangelo, ancora, ora, il giudizio di questo mondo, ora, il principe di questo mondo sarà gettato fuori, ora, quando saranno inalzati da terra, tirò tutti a me, questo gnun, che si ripete, dice che, fondamentalmente, la cruce di Cristo è il vero, vero specchio nel quale noi possiamo vedere la nostra verità, la nostra vita, è la verità di Dio. Allora, è giunta l'ora di metterci seriamente in cammino verso la glorificazione, che non è la croce, ma è la via della salvezza. E anche tu, con i tuoi linguaggi, con i tuoi modi di fare, che da tutti possono essere anche criticati, puoi diventare sicuramente strumento della gloria di Dio, glorificatore del suo nome. Buona domenica a tutti. Grazie.